a tutti bentornati sul canale eccoci qua con una piccola spesa allora oggi ho preso questi che sono i tramezzini con il tacchino in mezzo tutte queste cose che vedete scritte qua c'è il ripieno della salsiccia c'è un chutney alle onion le cipolle insomma il pane quello integrale questo è un sandwich che si usa nel periodo di natale se venite da queste parti nel periodo di natale provatelo c'è anche il bacon in mezzo il tacchino e a me piace tanto infatti ne ho presi due allora per cui ci sono i fuggi che si possono fare in padella io ci farò una quiche qua abbiamo i tortelli questi qua con gli spinaci e ricotta tortelloni delle uova ho preso queste uova e c'è qui da ultimo una mancanza di uova perché le galline si stanno ammalando con l'influenza degli uccelli non lo so e quindi ci sono poche uova qua ho preso due confezioni di tè vabbè questa è una tisana per dormire di buca molto efficace alla lavanda e qua c'è un tè verde all'aminata che a me piace tanto è rinfrescante buono qui ci sono delle sottilette che mi serviranno per la quiche qua c'è la panna che mi serve pure per la quiche e qui c'è la pasta sfoglia sempre per la quiche la ricetta della quiche la trovate qua sul canale c'è la quiche alla pancetta ma voi potete sostituire la pancetta con qualsiasi cosa appunto ci metterò i funghi qua ci sono questi biscottini blissfuls che sono tipo i come si chiama i nutella biscuits c'è la stessa consistenza però questi dentro ci hanno la cioccolata belga e pare la panna questa è un'edizione limitata proprio per il periodo natalizio quindi facevo non li provavo e qua c'è un pezzo di carne che si fa al forno è tipo una porchetta mi sembra comunque poi lo proverò e ci sono anche c'è la salsa di mele crackling che sono questi pezzettini di grasso che sono croccanti è tipo insomma la crosticina della porchetta qua ci sono quattro kiwi e poi ho preso la cioccolata questo qua che compro sempre di Cadbury con la frutta e le noccioline, le nocciole no non ci sono nocciole sono mandorle in verità ok quindi questa è tutta la mia spesetta piccolina spero che il video vi sia piaciuto insomma niente vi saluto e ci vedremo ci vediamo sì ci vedremo in un prossimo video ciao ciao ciao